ciao a tutti oggi voglio parlarvi della serie tv di successo viola come il mare 2 in onda su canale 5 con la terza puntata prevista per giovedì 16 maggio alle 21 40 la storia ambientata a palermo ruota attorno alla giornalista viola e all'affascinante ispettore di polizia francesco demir prima di svelarvi le anticipazioni di questa sera vi racconto qualche curiosità sulla fiction la serie si ispira al romanzo conosci l'estate di simona tanzini e vede alla regia alexis sweet e laslo barbo le anticipazioni per la puntata di stasera si collegano agli ultimi avvenimenti vissuti dai protagonisti viola e il nuovo pm matteo ferrara coltivano un rapporto che non piace affatto a demir cosa succederà questa sera scopriamolo insieme nella prossima puntata di viola come il mare 2 viola e demir faranno una scoperta sconvolgente pietro martino è il padre biologico di demir nel frattempo si troveranno di fronte a un nuovo caso legato alla morte di un giovane musicista viola si avvicinerà sempre di più al pm matteo ferrara mentre demir sarà ossessionato dalla gelosia le anticipazioni proseguono con un possibile sviluppo nel rapporto tra viola e demir nonostante le tensioni legate al pm l'arrivo di una donna di nome fara porterà a un fraintendimento tra i due ma presto verrà fuori la verità la ragazza è incinta e il padre potrebbe essere proprio demir come reagirà viola non vedo l'ora di scoprirlo e voi siete pronti per la puntata di stasera non perdete viola come il mare 2 su canale 5 alle 21 40 per tutte le risposte alle vostre domande restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla serie